Cari fratelli e sorelle, prima di concludere questa celebrazione vi saluto con affetto, in particolare i miei confratelli vescovi della Sardegna, che ringrazio. Qui, ai piedi della Madonna, vorrei ringraziare tutti, ciascuno di voi, cari fratelli, sacerdoti, religiosi e religiose, le autorità e, in modo speciale, quanto hanno collaborato per organizzare questa visita. Soprattutto voglio affidarvi a Maria, nostra Signora Devonaria, ma in questo momento penso a tutti i numerosi santuari mariani della Sardegna. La vostra terra ha un legame forte con Maria, un legame che esprimette nella vostra devozione e nella vostra cultura. Siate. Siate sempre veri figli di Maria, nella Chiesa. Dimostratelo con la vostra vita, seguendo l'esempio dei Santi. A questo proposito, ricordiamo che ieri a Bergamo è stato proclamato Beato Tommaso da Cervis da Olera. Frate Cappuccino, vissuto tra i secoli XVI e XVII, prendiamo grazie per questo testimone dell'umiltà e della carità di Cristo. Ora recitiamo insieme la preghiera dell'Angelus. Angelus Domini, un Siavit Maria. Ave Maria, grazia plena, Dominus Tecum, benedicta tu in mulieribus e benedicto fruttus venti tu Iesu. Santa Maria, Mater Dei, ora con nobis peccatori, nunc et in ora mortis nostre. Ave Maria, grazia plena, Dominus Tecum, benedicta tu in mulieribus e benedicto fruttus venti tu Iesu. Santa Maria, Mater Dei, ora con nobis peccatori, nunc et in ora mortis nostre. Amen. Ave Maria, grazia plena, Dominus Tecum, benedicta tu in mulieribus e benedicto fruttus venti tu Iesu. Santa Maria, Mater Dei, ora con nobis peccatori, nunc et in ora mortis nostre. Amen. Ora con nobis, Santa di Genitris. Put digna, diciamus promissionibus Christi. Grazie a Tua, a quesumu Domini, benedicti buc nostri sinfunde. Ut Kiangere annunciante, a Christi fili Tue, incarnazionem cogniovimus, per passione meis e crucem, a resurrezioni gloriai perducamor, per un in Cristo, un Domino nostrum. Amen. Gloria a Patria, figlio e spirito santo. 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 La messa è finita, andate in pace. Rendiamo grazia di Dio. Vi auguro buona domenica e buon pranzo.